All'attacco del PD anche i 5 Stelle che ribadiscono i nostri candidati saranno scelti dalla rete e Di Battista conferma non mi candido. Spero che i cittadini romani possano votare un programma delle idee, delle soluzioni. Di nomi stra conosciuti ce ne sono stati in passato. Io li ricordo, Rutelli, Veltroni e Alemanno Marino. È tempo di dare un governo ai cittadini.